bella tutti ragazzi e benvenuti a questo mio video sono di gioia in canale e ciò ci siamo sull'ottavo game lady per essere cominciamo la passata con mani stai in maniera partiti tele tele ireland white feet per riparare la raffa del shakkar uggia serena l'uomo 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 il video la parola che è ieri cittadini l'uomo 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 percorrere la prima quattro il barrio non si trova subito il barco alla non è che un poverino non è arrivato non arriva Irland arriva Richard c'è Tevez, c'è Tevez poi arriva Barry è natale fuori però vediamo il cucchiere del rosso la vada per William ma è recupera Irland Carlitos, attenzione Carlitos, numero numero vede davanti in aria, vede davanti, vede davanti c'è Barry dietro ci arriva il cucchiere e fa farò andare al portiere è deciso dei gai recuperare Riccardo Riccardo, questa è una bomba da lontano è una bomba da lontano non è Usman è una bomba da lontano Usman altri due due decimi di Lontano Erik Suc imprinted Usman e poi tutti i dati i miei l'ambiente di un attimo che è molto grande con il portiere l'ambulgono il portiere la bomba forse questo è il primo mondo con la moglie il bambino mamma mia diciamo con il terreno da bocci Dai, dai, recupera Iraland. Tevez, recupera Tevez, per te palla Tevez. Siamo nel jet zone. Siamo in avanti per Tevez, ho sentito in avanti per Tevez. Ho dovuto superare la velocità a Rappi, Tevez. Mi trovo Iraland che ci arriva col tetro, che Iraland vuole andare a sinistro. Il portiere salva, però c'è da fuoriare a Barry. Ci può provare col tetro Barry? Qui, recuperata di Vyatov. Lando per Barry qui, in questo caso. Grazie. Ho recuperato Iraland, insomma, io non ho passato Iraland. Iraland, stavano, mi chiamo Iraland, non vuole come... Sì, è scatto, arriva. Mi ha via Tevez, c'è dietro Barry, sessione. Non vuole combinare Tevez, 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 Iraland. Porta a sinistro di Iraland. Ti vedo che è in downcroft per Galant, ma... Ho recuperato... Mi schienco... Di Rambino, ehm... Mi parenti in frattempo, con dismione di Errami mi hanno saputo abbattere. Gevtoni, da Rambino. La Rambino La Rambino. danni c'è una che Gerson in sessione recupera l'isla Adriano ora ho scoperto che in panchina ci leva il testo lo sciacca proprio da favore e qui diamo comunque andiamo con Ireland che è super velocità crack mamma mia Ireland, grande partita questa di Ireland andiamo vicinaria sta venendo cananda in aria e per lui invece di gestione se ne veloci fa fatto che mi rendi peggiore ma recupera d'Anna ma se si può attaccare no palla fuori diventa per il shaktan invece di Adriano si dice palla dai white feet dai perdi palla ma però recupera voi grazie Gerson da lontano ci prova dentro le Gerson ed è calcio di rigore è calcio di rigore per lo shaktar e c'è il rosso per i rosso per Turei ragazzi rosso per il mio giocatore rosso per il mio giocatore attenzione attraverso di lui di Adriano sul rigore e il Manchester City salva però perde palla recupera perde palla il segno il segno il segno si salva il forciere e il Manchester City in 10 in sessione e se ne ha Gerson di testa non ha dato il giocatore c'è dietro lui di Adriano e se ne ha attenzione White Phillips c'è Razz ma White Phillips si recupera e dà la palla lunga per Tevez che sbaglia però e concede la rivesta al shaktar c'è lui in aria l'ultima azione Irland può partire può partire Robinho Robinho va a partire Tevez Tevez va a partire Galante proprio passo di Galante subito smarca si cucchiere Galante davanti al forciere c'è il suo zero no la parata Sessione Piatto Cerrat vediamo Cerrat è finito il primo tempo 1-2 per i Manchester City raga gol di Galante chi è praticamente il gol di Galante arriva vediamo arriva al diciannovesimo vediamo che come tempo subito con il partito la palla partirà lo shaktar il secondo tempo con William Jason Ustino andiamo Ustino Barry Robinho davanti per Galante decisione voglia tutto Ustino Galante fuori grande azione però magari sfondare Robinho Piatto Piatto Irland Tevez ci manca ci manca Tevez che lo sdira una bomba Tevez calciutandolo quando Lando Lando Tevez il figlio ha facciandolo battuto male qui scusate da Barry a pia ireland pazza però recupera william Usman e il nante deve essere recuperare c'è Robinho sulla faccia Robinho vuole la sponda di qualche giocatore suo Vuole la sponda a Robinho Robinho vuole la sponda La sponda di Irland E di Irland però col destro Palla fuori Fuori Mamma mia Vabbè attenzione C'è Tevez Partire calante Tevez Calante si gira A giro prova Mamma mia Poco alta sopra la traversa E c'è un cambio per lo Shaqqal Sì vediamo che si prepara per lo Shaqqal Fuori William dentro Ueseschi Incredibile Mi sentito comunque di calante Tevez Tevez in velocità fusione Tevez Tevez Alta Si tira lontana adesso Con la punta Calante Tevez Le punte Sì vediamo il Barry Sponda qui per calante il Barry E' rimetta Troppo lunga E' un Kuker Quando abbattere la rimetta Robinho Insieme Kuker Mi leva qua la Robinho Ma c'è un fallo però Quindi Kuker Quando abbattere Questa punizione Tirato Terra Sbaglia Kuker C'è Robinho Che possa fare Controppiede Robinho supera Insiglio Robinho Ti salva però Il Shakhtar Con Andiamo Batele Angolo Fili Cioè Barry da lontano Ci prova Palla fuori Spero alternativo Questo Siamo al 63esimo Con Tevez Recupera Ierland Sì Galante A partire A partire Tevez Sessione Il Kuker Si mette mezzo Dai Grazie Mi supera Ierland Stiamo facendo una bella partita A partire Galante Galante Tevez Galante Tevez Tevez C'è Tra le forzioni Galante dentro l'aria Dopo l'abbigliata Sì Con Tevez Galante Però ci prova ancora Tevez Galante dentro l'aria E a fallo è fuori Una strana tra le soia Prende il pallone Però Caso per lo Shakhtar C'è un cambio Dentro Fernandinho Fuori dai 69esimo E' appena entrato Sessione Rat Sessione Jetson Jetson Rat Jetson Ancora Jetson Sessione Unite La spazza Per Galante Galante è molto più veloce Tessone Di Kuker Dovero Kuker Riesce a contrastallo Irland La spazza per Tevez Però c'è Galante Poi Che tira Galante Col destro La rete Mamma mia Da fuori Aria Siamo a 22 metri E 6 da 0 Il Magister City Doppietta di Galante Incredibile Doppietta Comunque Nello Shutter Prodentare Dujan Fuori Insigno Mamma mia Quindi Galante Fa la doppietta Fa una bella doppietta Sessione Giazzone 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 Sessione C'era sponda per Rovigno Giazzone Giazzone Una bella partita D'ha detto Rovigno Giazzone Deviato il partito Che arriva Tevez Rovigno Ed è alta Rovigno Siamo all'ottantesimo Ottantesimo minuto di gioco Che appena è entrato Mamma mia E c'è un fallo però Di Ricans Un genere da 44 metri Di lo Shakhtar E si sbaglia tutto Lo Shakhtar Da palla Richard Si fa scattare galante così Dove si fa scattare galante così Lo Shakhtar Il numero 9 Il numero 9 Del Manchester City Il numero 9 del Manchester City Sessione che recupera Di 1 palla dopo averla persa Prova la bomba Prova la bomba Tevez Rece Carritos Il numero 32 Che finalmente segna Carlitos Tevez Ecco qui Carlitos Mamma mia Andiamo allo Sono a cinqueesimo Che è entrato E c'è il gol di Tevez Mamma mia Che gol di Tevez Dujan Dujan Due tezzi E siamo allo Seiesimo Già Fernandinho Ecco qui Fernandinho Andiamo Fernandinho Contrattato la galante Fernandinho Sessione dietro C'è un'altra Sessione dietro Ma sbaglia tutto Recupera però È È Una Sessione Eccoli Ecco Lo Shakhtar Attacca proprio all'ultimo Quando è sotto Di tre gole Ma Manchester City Recupera Due minuti Recupero Due minuti Per partire Tevez Assalta ancora Per i Manchester City Il K.O. Arrivano Galante Di pallonetto Di pallonetto Galante Arriva il K.O Il 4-0 L'altro di slecca E' risultata L'altro di slecca Chi arriva Di pallonetto Prende il pallo Gol Tevez Ecco Fa Vediamo Lattici di rato terra Vediamo Ecco qui Carlitos E i galanti Di pallonetto Ecco Arriva il pallo Gol Il pallonetto 4-0 Lo Schattar battuto Mamma mia Mamma mia Mamma mia Andiamo Recupera Berri ancora E no Non c'è più azione Vanno i servizi Bate lo Schattar Per 4-0 Ripresa Di Gialante E il gol Di Carlitos Stelett Che Steina Dopo aver giocato Anche una nuina Bella partita Steina Anche lui Comunque ragazzi Questo era Il mio Ottavo gameplay Comunque ragazzi Se non vi è piaciuto il video Mettete il piace sotto Se non siete iscritti Iscrivetevi E non ci vediamo Alla prossima video